Grande emozione quella provata ieri dagli alunni della Quinta E dell'Istituto Lombardo Radice e Istituto Comprensivo Caruano che hanno partecipato a un contest inserito nel progetto Il Giornalista Sei Tu. Gli alunni, sotto la direzione della maestra Sonia Dente, hanno realizzato un articolo che è stato poi letto e valutato dalla giornalista Concita Occhipinti. L'articolo più interessante è stato rintracciato attraverso una selezione di tutti gli elaborati. Il vincitore, Alessandro Ruello, verrà premiato con la pubblicazione per un mese su un blog di informazione locale. Il progetto Il Giornalista Sei Tu One Day ha lo scopo, attraverso la scoperta della scrittura creativa e della figura del giornalista, di concertare le potenzialità dell'alunno per fargli assumere piena padronanza linguistica della scrittura e potenziarne di conseguenza l'autostima. Un bambino in grado di elaborare creativamente un articolo, che verrà anche pubblicato, ha in mano le redini di un mass media. Un traguardo che suscita orgoglio e che senza dubbio lo rende responsabile di un interessante progetto e di stimoli, indubbiamente positivi e creativi. Valorizziamo e scopriamo dunque nuovi straordinari talenti. La classe, attenta e molto interessata all'argomento giornale online, ha partecipato con entusiasmo e spirito di squadra, interagendo con la stessa Occhipinti che ha promesso una seconda tappa prima della fine dell'anno scolastico.